Centro storico cittadino ristanese, ovvero slalom e tre trabocchetti forniti dalla pavimentazione delle strade. Ma non solo, anche weekend del terrore, dato che tra sabato e domenica, in due diverse centralissime strade della città, altrettante donne, una residente e una turista, hanno dovuto fare i conti con le sconnessioni dei San Pietrini. Medicata sul posto la prima, mentre per la seconda sono intervenuti volontari del centro 18, che hanno provveduto a trasportare la malcapitata turista al pronto soccorso del nosocomio cittadino, dove le sono state curate diverse lesioni al volto. Nel nostro operatore abbiamo voluto immortalare i rischi di un percorso che si snoda tra le vie del centro di Oristano. Buche, San Pietrini sconnessi, lastre di pietra frantumate con punte sporgenti. Questo rappresenta la normalità, così come il cedimento della platea sottostante alla pavimentazione, come avviene nella centralissima piazza Roma. Ma veramente una brutta vetrina per una città che si fregia del titolo di città turistica. Intanto protestano le vittime, ma anche chi per puro caso vittima non è diventato e i commercianti del centro città che raccolgono il disappunto dei loro clienti. Vigili urbani, ufficio tecnico del Comune, addetta dai cittadini indignati, hanno ricevuto parecchie segnalazioni, ormai da parecchio tempo, ma almeno per il momento tutto tace.